All'indomani del crollo che si è verificato la scorsa notte nella vela celeste a Scampia, causando due decessi e diversi feriti, il sindaco Gaetano Manfredi fa il punto sulle attività in corso. Una tragedia tanto dolorosa ha affermato che deve essere una spinta ulteriore per completare il progetto di abbattimento e riqualificazione delle vele entro i tempi previsti ed offrire con i nuovi alloggi un'abitazione sicura e dignitosa a persone che da molti anni vivono in una condizione di grande precarietà. Da stamattina presto ci sono delle squadre di tecnici che stanno facendo delle valutazioni statiche su tutti quelli che sono gli elementi che possono essere più critici nell'ambito della vela per valutare quali sono le opportunità per poter avere un rientro a casa di alcuni nuclei familiari. I lavori nella vela celeste partiti a inizio anno con il seminterrato e il piano terra non hanno alcuna relazione con il cedimento del ballatoio ai piani alti, ha precisato Manfredi. C'è comunque un'indagine in corso e la Procura è il lavoro per valutare le cause del crollo che ha determinato lo sgombero di 800 residenti. In attesa delle verifiche tecniche necessarie ad accertare la sicurezza degli spazi, le famiglie sfollate sono state sistemate temporaneamente nelle palestre delle scuole della zona. Da un lato dobbiamo ovviamente garantire la sicurezza, dall'altro dare una ospitalità a tutte le persone, i nuclei familiari più fragili, i disabili che ovviamente sono coinvolti all'interno di questa grande problematica e di questa grande tragedia. Non lasceremo soli gli abitanti di Scampia, ci impegneremo come stiamo facendo ancora di più per fare in modo che ci sia una sistemazione dignitosa, sicura e certa per tante famiglie che vivono da anni, alcuni da decenni, in situazioni di estrema precarietà. Il giorno dei funerali, ha dichiarato il sindaco, sarà proclamato il lutto cittadino.